O ti adatti al digitale o resti indietro. Benvenuti a questo episodio di The Fine Banking, un episodio diciamo non proprio in quarantena ma poco ci manca. Chi vive a Milano, in Lombardia o in un'altra delle zone al centro dell'attenzione si è ormai abituato, come noi, ai bar chiusi alle 18 e allo smart working e infatti direttamente dalla mia cucina mando un saluto a Gaia Calderone. Buongiorno a tutti, a tutti voi che siete in smart working. Questo episodio risponde a una domanda che molti di voi ci hanno fatto nelle ultime settimane. Che cosa ne pensate dell'operazione Intesa San Paolo UbiBanca? Ecco, in questi giorni ne abbiamo sentite veramente di ogni e noi vogliamo parlarne in qualche modo indirettamente, non cioè intervenendo su questo o quell'altro aspetto dell'offerta, ma tornando a parlare di un argomento che ai giornalisti sta molto a cuore, la necessità di una nuova fase di consolidamento che per la nostra categoria un po' per comodità di titolazione diventa il risico bancario. Ecco, ne parliamo prendendo spunto da un report arrivato negli scorsi giorni in redazione che parla della necessità di tenere il passo con il digitale e di quanto sia difficile farlo per le banche, un report che proviene da S&P, quella che fino a qualche anno fa si chiamava Standard & Poor's. Infatti l'ufficio stampa si raccomanda sempre di chiamarli S&P e basta. Beh, ma almeno così le genti che ci ascoltano capiscono di chi parliamo. Comunque è uscito questo report di S&P, Ex Standard & Poor's, che ci dice una cosa piuttosto importante. Le banche italiane o si digitalizzano o rischiano di diventare irrilevanti e ovviamente è difficile digitalizzarsi se si resta piccoli e ci sono pochi soldi da investire. In parole povere, consolidamento e digitalizzazione, oppure è la fine? Ne parliamo dopo la sigla. Define banking, fintech, pagamenti digitali, blockchain, criptovalute e la banca del futuro nel podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Gaia, hai letto il report? Sì, certo. Ci fai una supersintesi delle tue? Allora, S&P parte da alcune considerazioni di contesto, piuttosto ovvie in realtà, ma che servono anche a capire la logica dietro la valutazione. I clienti italiani hanno sempre più tecnologia digitale a disposizione e l'open banking promette di aprire il mercato, aumentando la trasparenza e favorendo anche l'arrivo di nuovi attori. E fin qui niente da dire. Bene, ma la maggioranza delle nostre banche sta lavorando per rispondere alla sfida della digital transformation e per chi ci segue anche questo è ovvio. Non parliamo praticamente di altro. Quindi le banche stanno lavorando sui processi interni, su soluzioni che S&P chiama multicanale ma che sarebbe più corretto definire omnicanale e sulla collaborazione con il fintech. S&P dice anche qualcosa che non tutti vogliono sentire, cioè il fatto che per l'adozione massiva dell'open banking potrebbe volerci molto tempo perché i clienti italiani sono conservatori, un po' scettici anche rispetto ai nuovi fornitori di servizi finanziari e sotto sotto ancora affezionati alla banca e alla compagnia assicurativa di sempre. Beh insomma qua siamo io e te con pochi amici che ci ascoltano e lo possiamo anche dire siamo d'accordo su questo punto. Le opportunità sono tante ma per conquistare il cliente ci vorrà tempo. Comunque continui a interrompermi. Va bene, scusa, che cos'altro dice S&P? Stima che nel breve termine la relazione con i clienti delle banche tradizionali sia un vantaggio competitivo molto forte e limita anche i rischi di una disruption, rischi che però potrebbero colpire comunque quelle realtà che col passare del tempo non riescono a stare al passo con l'innovazione, con il contesto competitivo che è in costante cambiamento. Questa è la fine della sintesi. Grazie Gaia. Se sono anni che parliamo di consolidamento bancario è proprio perché la logica alla base fila perfettamente. Da un lato hai realtà native digitali che offrono servizi e hanno ottimi margini grazie a un'elevata automazione e a una quantità di personale umano piuttosto limitata. E non sto parlando del fintech ma delle big tech, delle gaffa, insomma di Google, Amazon, Facebook, Apple e compagnia cantante. Ecco è chiaro che da un lato hai questi giganti internazionali che hanno più liquidità in cassa di un paese in via di sviluppo, dall'altro hai delle realtà nel migliore dei casi nazionali ma spesso regionali o locali con un forte costo del personale, sistemiti un po' vecchiotti che finché vanno lasciali andare, una rete di filiali che costa e rende relativamente poco, anche se in realtà rende poco perché l'economia nazionale è quello che è da decenni. Insomma è chiaro che la scala fa la differenza perché solo se crei efficienza e masse puoi avere quei margini che ti permettono di investire in innovazione e di stare sul mercato. Ecco su questo punto S&P è molto esplicita. Il futuro prevede dei cambiamenti strutturali nel mercato italiano con una divergenza crescente tra le big che riusciranno a innovare migliorando l'efficienza e diversificando i ricavi, mentre le piccole e medie banche potrebbero avere difficoltà a gestire il legacy e a tenere quindi il passo. Mi viene subito in mente l'open banking che sarà il tema del 2020 e in cui la dimensione dell'istituto bancario fa la differenza non tanto nell'adeguamento tecnologico quanto nella capacità di avere una visione strategica del proprio futuro. Le grandi guidano, le piccole spesso inseguono, imitando quello che fanno le grandi, con le devute eccezioni ovviamente. Questo discorso però vale anche per un altro settore, quello dei pagamenti. Abbiamo visto diverse operazioni importanti negli ultimi anni, anche a livello internazionale. Altro che, anzi, alcune operazioni sono molto molto recenti. Nei pagamenti il fenomeno forse è ancora più accentuato perché la normativa ha creato di fatto un mercato europeo omogeneo. La possibilità di fare scala è diventata praticamente globale e le operazioni di fusione e di acquisizione assumono valori e contorni sempre più grandi. Quello che sta accadendo in ambito pagamenti avviene anche perché la normativa, in particolare quella europea, sta creando un mercato più omogeneo. Questo non può ancora avvenire così agevolmente nel banking proprio perché la normativa ha ancora delle differenze e degli ostacoli. Non è solo tecnologia, insomma. È la solita tempesta perfetta di tecnologia e normativa. Però è bene ricordarsi sempre, come infatti poi precisa anche S&P, che c'è un terzo elemento, che è il consumatore. È verissimo anche in questo caso perché in fondo è la fiducia del cliente a dare quel vantaggio momentaneo alle banche nel competere con le nuove realtà. Nel banking il brand conta ancora, mentre in fondo non ci importa molto se dietro il nostro bonifico istantaneo c'è quel fornitore o quell'altro. Anche i brand dei principali circuiti di pagamento internazionali alla fine sono abbastanza equivalenti per il consumatore finale. Chi ha cercato di differenziarsi in ambito pagamenti lo ha fatto verso l'alto, diciamo, creando un'immagine di esclusività e di servizi aggiuntivi. C'è un ultimo elemento da citare però prima di chiudere l'episodio. Dici tutto. È una constatazione che S&P fa riferimento ai suoi rating sulle istituzioni finanziarie italiane. Sono inferiori a quelli della maggior parte delle banche di pari dimensioni in Europa occidentale. E lo sono in primis per le ragioni che tutti conosciamo. Le banche italiane sono esposte a maggiori rischi economici. Soprattutto adesso che lavoriamo tutti chiusi in casa non si sa bene per quanto. Esatto. E per via delle incertezze sui titoli di Stato e sulla durata del governo, S&P cita però esplicitamente, alla fine dell'elenco, anche il fatto che i modelli di business di alcune banche sono a rischio in futuro. Perché se una grande parte dei clienti è ancora scettica sui nuovi competitor, sempre più prodotti si stanno avviando verso quella che viene definita la commoditizzazione. E il brand non riuscirà a trattenerli per sempre. Insomma, è qui che il rischio di non tenere il passo con il digitale si farà più sentire. La fiducia tra banca e cliente è un vantaggio competitivo che non durerà in eterno. E per tenere il passo servono spalle larghe, capacità di fare scala e soldi da investire in tecnologia. Non sappiamo che cosa succederà con l'operazione in tesa San Paolo UbiBanca, ma il consolidamento ha una sua logica per chi vuole fare la banca universale. Certo, per i player specializzati la sfida è diversa e avremo sicuramente modo di parlarne ancora in futuro. Io vi segnalo che nel numero di marzo di azienda banca, in uscita tra un paio di settimane, parleremo di open banking con un approfondimento dedicato. Prima di salutarvi volevamo aprire una piccola parentesi sull'emergenza coronavirus che stiamo vivendo qui in Lombardia e anche in altre regioni. Sono arrivate diverse comunicazioni da parte delle banche sulle misure che sono state prese per limitare il contagio e per diffondere lo smart working. Noi stiamo raccogliendo un po' di esperienze e di segnalazioni che ci arrivano proprio da voi. Se volete contribuire potete inviarci la vostra piccola storia anonima ovviamente all'indirizzo e-mail info-azienda-banca.it. Intanto salutiamo Gaia che tornerà prossimamente con noi. Grazie mille, buona giornata a tutti. E anche da parte mia una risentirci alla prossima settimana qui a Define Banking. Grazie mille, buona giornata a tutti.